Ciao, in questo video farò vedere la mia collezione. Possiamo iniziare. Allora, qua ho i pony della vecchia serie, poi qua ho Princess Starlight, qua ho Princess Celestia normale, Princess Celestia con l'acqua e con le stelline che, ecco vanno, poi ho Princess Celestia che ho vinto con le Equestria Girl, ho Princess Luna, poi ho Princess Cadence alle magiche, Princess Cadence Crystal Empire, Shiny Armor, Spike, Princess Twilight, Twilight normale, Sweetie Belle, Rarity, Applejack, Pinkie Pie, Pinkie Pie che muove le gambe, se schiaccia poi ho Rainbow Dash, Fluttershy normale e Fluttershy Crystal Empire. Poi ho Sunset Shimmer, Plummet, Rozza, la DJ, la signora Cake, Rainbow Blitz, Apple, Yellow, Flash, Monster e poi ho una bambina che era Rainbow Dash del McDonald's ma io faccio anche una bambina che si chiama Fire. Poi abbiamo i castelli. Allora, ho l'angolo zuccherino che si aprono le porte, si chiudono e anche le finestre e dietro è così con le bianche bandierine e gli stickers da attaccare con due piani. Poi ho il castello, i due castelli, quello di Twilight e quello di Cadence e Shiny Armor e ho i due castelli con le cose. Poi qua ho tutti i magazine di My Little Pony che sono? Qua ci sono dei libretti e un libro di legno. Poi qua ci sono tutti i magazine, vedete? My Little Pony, My Little Pony, Spike e tutto cose. Sono tutti questi, i magazine. poi passiamo agli oggetti e i mezzi di trasporto. Allora, di mezzo di trasporto ho questo treno di Pinkie Pie che c'era. Poi qua ci sono degli oggettini, dei My Little Pony. Qua c'è l'elicottero che ho vinto sempre con Pinkie Pie. Lo specchio con Cadence e Twilight. E il campeggio che c'era anche il fuoco, ma il fuoco con i marshmallow l'ho perso, che era con Rainbow Dash e degli animaletti. E degli animaletti, non c'ho voglia di tirare fuori, però c'ho un cane, uno scogliattolo e molte altre cose. Poi ci sono dei pettini che certi li ho persi. Il regalo che il tappolo c'ho voglia di cercarlo. Un vestito, la vasca, poi questo qua, lo scriglio che si apre e si chiude. Poi ho questo cosa delle caramelle che ho vinto con Pinkie Pie e Sweetie Belle. Poi questo che ho vinto con la signora Kay è Twirly, ma Twirly l'ho data a una mia amica. Poi ho questo che non è dei My Little Pony, però è sempre un Pony così che mi hanno regalato. Qua ci sono tutti i miei mini Pony. E quale è il mio Questreger? Twilight, Applejack, Rainbow Dash, Rarity, Fluttershy, Pinkie Pie, Sunset Sheep, Princess Celestia, Aria Blitz e Suorata Tusk e delle Dazzling. Poi ho qua un po' di foto perché le altre l'ho perste e qua un pettino che è questo di Rarity. Qua c'è la casa delle bambole dove farò dei video con il giardino. Questa cambia la cricetta che faccio che è la prigione. Poi qua ho dei pezzi, messi un po' male. Allora qua di piccolini ho Rainbow Dash, Twilight, Pinkie Pie grande, Pinkie Pie piccola, Applejack piccola, poi ho Daisy Dreams, questa, e Rainbow Dash con i pattini grandi come Daisy Dreams. Poi di grandi ho Rainbow Dash e Fluttershy, di altri grandi diciamo più piccoli, Fluttershy e Applejack e questi sono i pupazzi. Poi lei è scegante. Poi ho dei poste, questi sono fatto io con degli stickers. Questi sono poste già fatti di Halloween e di notale. Ho fatto io con le lettere brillantate. Poi ho una cartellina che ho attaccato degli stickers nei mani trepponi. Poi ho un fumetto molto grande. Ci sono anche parolacce perché è anche da grandi questo fumetto. E questo, vedete, vabbè è tipo così. Poi ho le mutande da bambini di sei anni però me le metto lo stesso. E ho questo cappellino di Twilight, di Rainbow Dash. Poi ho la cartella dei Mani Trepponi, se mi prendono in giro non me le metto. E ho un astuccio, astucce qua, sempre dei Mani Trepponi, e anche il diario e dei quaderni. Io ho messo delle foto dentro questo portafoto, delle tre puledrine, dietro questa. Ho delle righelle, delle battite e delle penne. Adesso vi mostro una penna, il Twilight. Ce l'ho anche di Pinkie Pie ma non c'è voglia di tirla fuori e ho delle battite di Pinkie Pie e di remola. Poi ho il diario dei segreti. Poi ho Sky Witches che però l'ho lasciata da mia cugina e quindi la farò vedere in una foto. Questo è Sky Witches che l'ho dimenticata da mia cugina però gli ho fatto una foto e l'ho tenuta. E' questa qui, questa qua. Ed il resto è tutto con la mia collezione di Mani Trepponi. Parte uno perché poi ce ne avrò degli altri, io ovvio le comprerò, che farò un altro video quando ce ne avrà molti di più. Farò un altro video e per questo è tutto. La mia collezione, a voi! Avanti Apple, questa la conoscete? Ciò, cantiamo! Sì! Ah! Viaggiamo da intere generazioni In armonia e unità Cantiamo attraverso tutta la nazione E questo è fino a un po' più in là Gli Apple insieme Agli Apple conviene L'amore è il nostro vincolo E dopo la pioggia tornerà il sereno Apple fino al torsolo Ciao! In nessun altro posto Io sarei Ciao!